Ciao, vediamo oggi come utilizzare uno strumento particolare che ci dà Google, in particolare Google Drive, all'interno di Google Drive. È Google Disegni. Io entro nel mio Drive, poi vado su Nuovo, sotto clicco su Altro e poi su Disegni Google. Mi si apre una pagina di disegno trasparente. Io vorrei che questa pagina diventasse la mia tavola di disegno. Quindi intanto vado su File, sotto Imposta pagina e gli do le misure. Vado su Personalizzata e modifico con le misure che dà praticamente un foglio da disegno ancora da squadrare 33x24 cm. Applica. Ok, adesso possiamo cominciare a procedere con il disegno e vedere i vari strumenti. Divido in quattro il mio foglio da disegno. Prendo lo strumento Linea e la posiziono all'incirca al centro. Per poter tracciare una linea perfettamente orizzontale, con la mano destra terrò il mouse, il dito con cliccato e trascino. Con la mano sinistra invece, tengo schiacciato il tasto maiuscolo della tastiera del computer. Ora, io non so se a occhio sono riuscita a essere così precisa da metterlo esattamente a metà, questa linea. 24 cm è l'altezza del mio foglio, la metà sarebbe 12 cm. Allora, provo ad andare a vedere in Opzioni Formato. Seleziono la mia linea e vado a vedere la sua posizione. Quasi, diciamo che c'ero vicina, 11,82. Allora, seleziono e correggo con 12. In questo modo è perfettamente al centro. Ora vado a tracciare invece quella verticale. Ecco qua. E adesso anche qui vado a vedere la misura. Dunque, trattandosi di 33, devo trovare la metà. Quindi, vado a 16,50. In questo modo. Ho la metà del foglio. Come spessore della linea, tengo attualmente quella come se disegnassi con la matita leggera, quindi la 2H. Qui posso modificare lo spessore. In questo caso, vedete, un pixel è sufficiente. Quando andrò a fare figure che devo ripassare, allora aumenteremo i pixel. Ora metto con lo strumento T, sarebbe la icona col testo. E vado a scrivere i nomi dei piani. PV PL PL Anzi, PL è qua, e qua è il PO E poi la linea di terra. Ecco. Per questo primo esercizio non vado a fare la squadratura. Divido semplicemente il foglio in quattro parti. Proviamo a realizzare la proiezione ortogonale di un parallelepipedo. E quindi vado a tracciare intanto, comunque, le linee di distanza dai piani. Lo facciamo appoggiato al PO, quindi sulla linea di terra. È distante, ad esempio, 2 cm dal PL. Traccio una prima linea di proiezione e vado a vedere. Dunque, la metà era 16,5. Quindi, 2 cm più in là, viene 14,5. Sistemo la misura per essere più perfetta. Poi vado a tracciare la figura, invece, la linea orizzontale. Questa volta la voglio fare a 3 cm dal PO, dal PV. E quindi, ecco, lo posiziono in questo punto. Qui eravamo a 12, ecco, 15, quindi va benissimo. Cliccando fuori esce sempre quella righina. Bisognerebbe andare sul puntatore per poter fare in modo di cliccare fuori e non avere questa particolarità. Posso poi anche vedere di avvicinarmi con lo zoom. Vedete qua? Non sono stata molto precisa. E in questo caso lo posso spostare questa linea leggermente sulla sinistra. Perfetto. Ora vado a disegnare il mio parallelepipedo. Visto dall'alto. Quindi devo disegnare un rettangolo. Prendo lo strumento forme. Il primo è appunto un rettangolo. Mi posiziono all'incirca, tanto so che poi posso perfezionare il tutto. Allora, gli vado a dire intanto che lo voglio bianco e non appunto azzurrino. E ora le misure. Facciamo 5 cm per... No, la posizione, le misure. Gli do le misure. Ecco, dimensioni e rotazione. Larghezza facciamo circa 9 e l'altezza invece voglio fare 5 cm. Dopodiché andrò in posizione per poterlo spostare. Appunto, adesso lo sposto a mano fino qui e poi vedo, ecco, 5, 5 per 15. Perfetto. Lo vado a ripassare. Quindi spessisco la linea. Da un pixel vado a 3 pixel. Come se noi disegnassimo con la matita HB. Ecco, ora vado indietro con lo zoom, con CTRL, ALT, MENO. E vedo il mio parallelepipedo visto dall'alto. Adesso voglio provare a proiettare il parallelepipedo verso il PV. Di conseguenza traccio la linea di proiezione, sempre tenendo schiacciato il maiuscolo, verso l'alto. E con lo spessore sempre di un pixel va bene, però la sua posizione non è proprio perfetta. Quindi lo vado a spostare a 5. No. Proviamo a prelevarla e spostarla. Ecco, adesso è posizionata correttamente. Vado a prendere di nuovo lo strumento forma rettangolo e andrò a disegnare il rettangolo che sarebbe il mio parallelepipedo visto di fronte. Di nuovo gli dico bianco e dopo vado a vedere le dimensioni. La larghezza è 9, logicamente, come era sul PO. L'altezza posso decidere, ad esempio, di fare 8. 8 cm. E dopo lo sposto, naturalmente, verso la linea di terra. Bene. Ora, anche qua, vado a rendere la linea più spessa 3 pixel, che sarebbe la HB. Ora tocca fare il PL, il piano laterale. Devo disegnare anche qui le linee di proiezione provenienti dal nostro PV. Quindi, intanto, la linea orizzontale dell'altezza. Mi sposto leggermente a destra, in modo da poter fare la linea un po' più lunga. ecco. Poi, la posizione esattamente sul parallelepipedo. Posso sempre andare a controllare la posizione per essere sicura. Ecco, di te, 14. Facciamo, ecco, così. Perfetto. E 4. Ok. Dopodiché, qua, avrò da proiettare quest'altra linea in basso. Dopodiché, non potendo utilizzare il compasso vero e proprio, faccio una linea a 45 gradi, come se avessi la squadra a 45 gradi. Sempre tenendo schiacciato il maiuscolo, io posso, posizionandomi opportunamente, tracciare questa linea a 45 gradi, che è l'equivalente di fare una linea curva. Anche qua, vado a posizionarmi esattamente su una linea e traccio, ecco, l'altra linea a 45 gradi. Mi sposto adesso in verticale e vado di nuovo a tracciare una linea, questa volta, anzi no, direttamente adesso potrei fare linea di proiezione, ma dato che so che qui verrà il mio rettangolo, che è il parallelepipedo visto di lato, vado a prendere lo strumento forme rettangolo, di nuovo, e vado a disegnarlo con una misura intanto approssimativa, bianco, e poi, ecco, vedi, 5 e 8, bene. e posso andare ad ispessire la linea. Ecco, adesso, tornando indietro con lo zoom, posso vedere la mia proiezione ortogonale intera, ecco qua. Poi potrei addirittura mettere le lettere, perfezionarla, eccetera, ma alla prossima puntata per vedere gli altri dettagli, per poter anche imparare qualche altro, qualche altra particolarità, di questo programma. Google disegni. Ah, l'ultima cosa, posso rinominare il file, dando naturalmente il mio cognome, e, in questo caso, prova, oppure potrei scrivere il tavolo numero 10, 11, 12, per il suo ortogonale di un parallelepipedo. Per oggi è tutto. Per oggi è tutto.